Questa sera il ristorante rimarrà chiuso, andrete nelle cucine del refettorio ombrosiano. In questo luogo è nato e cresciuto un progetto voluto da Massimo Bottura. Un gruppo di volontari raccoglie ogni giorno le eccedenze e con queste eccedenze creano un menù servito alla mensa, alle persone che non hanno la possibilità di andare al ristorante. Ciao ragazzi! Avete degli ospiti veramente speciali stasera. Grazie a tutti. Vuoi aglio? Sì, vieni. Grazie. Tratta bene le padelle e loro ti vorranno bene. Ragazzi, c'è Carlo Cracco qua con noi stasera. Stasera. Lo sento, mecca la carica. Mi piace molto perché state portando avanti questo tipo di concetto che in un luogo del genere è fondamentale. Vai! Cristian, sei pronto con gli antipasti? Sì, chef! Sei pronto col buon lò? Sì, chef! C'è sacco di gente che vuole fare il bis perché è stata entusiasta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì. Sì. Grazie a tutti